Nino, come mai qua a Sovere Mannelli? Mi hanno invitato perché ci ricordiamo di Ignazio Giunti, che è stato un mio compagno sfortunato purtroppo e quindi sono venuto con piacere per ricordare questo sfortunato campione. Che rapportate con Ignazio? Un rapporto amichevole, abbiamo corso insieme, quindi Ignazio era simpatico, era un tipo molto spiritoso e quindi creava subito un feeling con chi gli stava accanto. Certamente. Il libro dà un'idea di Ignazio, in qualche modo. Un aneddoto per ricordarlo? No, l'aneddoto era un raso spiritoso, non era il solito secchione, era un tipo allegro, un tipo vivace e poi era molto bravo soprattutto. Quindi ho visto questa sua crescita, che quando l'ho visto i primi periodi era ancora un giovane pimpante, assieme a Nanni Galli. Correva, correva, andava veloce. Sì, sì, certo. Non si può diventare pilota Ferrari se non c'è il piede pesante. Peccato che la sua carriera sia stata interrotta da un incidente balordo, assurdo, perché altrimenti avremmo visto un pilota che magari conquistava qualche titolo iridato. Dimmi una cosa, facendo un parallelismo ad oggi, Ignazio a chi lo potresti paragonare? I paragoni non sono molto, diciamo così, significativi. Ogni pilota ha la sua classe, ha il suo stile, ha la sua vita, ha le sue vittorie. Ignazio era Ignazio, un ragazzo simpatico, giovane, che ha vinto parecchio e quindi è stato sfortunato perché l'incidente non è stata colpa sua, ma di una manovra sbagliata di un suo compagno, di un altro pilota, che spingeva incautamente la macchina, laddove non si doveva spingere e laddove dovevano esserci dei commissari che indicavano la presenza di questa macchina. Quindi è stato veramente un incidente tragico e fatale per Ignazio. Grazie, Nino. Prego. Grazie. Grazie.